Analizziamo innanzitutto prima di seguire Rosmini sullo sviluppo della sua teoria dell'essere nella teosofia ancora un attimino le critiche che rivolge esplicitamente a Hegel perché abbiamo visto che attraverso le critiche a Hegel Rosmini profila molto la propria teoria e con questo do a tutti il coriale benvenuto alla nostra lezione sulle nuove interpretazioni della teosofia perché ritengo veramente che qui agganciamo Rosmini a un pensiero e a una speculazione che può inserirsi oggi in maniera originale in una discussione che ha bisogno di questa istanza di una istanza che recupera autenticamente l'actus essenti dalla tradizione tomistica ma che lo fa in maniera responsabile nei confronti dell'istanza del soggetto conoscente della modernità possiamo tornare a un realismo ingenuo anche se questo sta per diventare il nuovo mainstream nella filosofia leggiamo allora insieme nel 1809, paragrafo 1809 della teosofia la seguente critica a Hegel, suppone Hegel, dice Rosmini, che si possa dare un pensare, un intuire puro e che la sua purità consista nel non avere affatto alcun oggetto che esiste un intuire, un pensare puro quindi l'essere ridotto, dice Rosmini, ha una forma, il confondere, l'identificare forma ideale e reale di non intendere più che il soggetto pensante è sempre un'istanza che pensa che pensa grazie a un'intuizione dell'idea dell'essere che non è identificabile con essa perché? Perché in quanto manifestatività dell'unità originale dell'essenza dell'ente non si realizza direttamente negli enti concreti e quindi non si realizza direttamente anche in ciò che è il pensiero ma soltanto attraverso la mediazione ontologica il pensiero attinge a questo, nasce da questo ma non sta ancora può raggiungere perciò il pensare assoluto, come abbiamo detto ma non sta per questo a livello di quella conoscenza assoluta che è soltanto conoscenza di Dio che conoscerebbe tutto, anche i particolari per intuizione che non avrebbe bisogno della sintesi, della conoscenza e del ragionamento concreto, dei concetti in altre parole e quindi Rosmini vede che in Hegel abbiamo più o meno il tentativo di recuperare la metafisica delle modernità non dobbiamo dimenticare che siamo dopo Kant attraverso questa concezione ossia di un conoscere assoluto che in questo conoscere assoluto fonda il pensiero soltanto su se stesso identifica con il pensiero la dimensione dell'essere quindi che la sua purità consista nel non aver affatto alcun oggetto un pensare al tutto vuoto e per questo anche la prima triade della scienza dell'oggi ma questo è falso, dice Rosmini giacché un pensare che non pensa nulla un intuire che nulla affatto intuisce sono concetti ripugnanti in se stessi non potendosi in alcun modo concepire la possibilità di un pensare e di un intuire privo di qualsiasi voglia oggetto il pensare e il suo oggetto sintesizzano l'uno non è l'altro ma l'uno non può stare senza l'altro abolito l'uno sono aboliti entrambi che se Hegel pretende convertire il pensare e l'intuire in un astratto in tal senso non abbiamo più il pensare e l'intuire ma abbiamo solo il concetto del pensare e dell'intuire che è tutt'altro e Rosmini dice vi ha bensì un pensare puro ma questo altro non è che il pensare naturale dell'uomo l'intuizione dell'essere ideale indeterminato esiste un pensare puro ma questo pensare puro è appunto la manifestatività dell'essere si può anche dire veramente la trasparenza in altre parole dell'essere nel pensiero nel pensiero l'essere diventa trasparente nell'insieme tra pensante e pensiero pensato la struttura dell'essere tra essere reale ed essere ideale si rende trasparente si rende pensato si può anche dire veramente che l'uomo così pensante non distingue ancora fra oggetto e soggetto e molto meno li confonde in uno sicché ciò che pensa in tale atto è il puro essere senza determinazioni e senza relazioni nel puro essere non è ancora compreso l'ente pensante non è compresa alcuna realità e però pensando all'essere non pensa a soggetto e non pensa alla relazione che l'essere ha con sé pensante questa è la pura manifestatività dell'essere che sta già in relazione evidentemente all'intelletto intuente non è che questa relazione sia inesistente ma nella pura manifestatività dell'essere questa relazione non è direttamente riflettuta questa relazione dice Rosmini poi subito infatti la scopre in appresso per via di riflessione ed è allora che si accorge che l'essere intuito è diverso e contraposto a sé intuente il che è appunto quanto dire lo ravissa nella sua relazione di oggetto a soggetto nel puro e semplice pensare non è ancora la cosa incominciata quindi se penso di poter partire da un puro pensare ancora non sono a livello che la metafisica sia cominciata e Rosmini dice finalmente mai e poi mai si potrà dire che questa coscienza vuota immaginata dai filosofi tedeschi sia l'essere l'essere puro questo è l'oggetto del pensare non della coscienza e l'oggetto del pensare è distinto per sua propria natura inconfusibile con l'atto del pensare evidentemente dice Rosmini qui che l'essere, l'essere puro è senz'altro oggetto del pensare ma non si identifica o non diventa oggetto della stessa coscienza che è il principio riflessivo dello spirito umano invece il pensare è costituito nella pura presenza dell'essere puro dell'intuizione dell'idea dell'essere vero è che il pensiero intuente 1838 quando è diretto risiede così fattamente nel suo oggetto che non fa ritorno su di sé onde non conosce se stesso ma l'oggetto l'essere questo fatto ingannò Giorgio Hegel come vedemmo il quale ne indusse che in tal atto il pensiero è abolito e non rimane più che l'essere ma questa è conseguenza spagliatissima l'unica conseguenza che si può raccogliere da questo fatto si è che l'essere è il solo cognito il pensiero rimane incognito ma perché il pensiero rimane incognito ne viene forse che egli non sia più allora Rosmini dice in queste frasi che qualsiasi pensiero è fondata nella intuizione originale dell'idea dell'essere l'essere è manifesto all'essere alla mente e Rosmini come abbiamo anche già visto la scorsa volta dice che in questo essere non abbiamo veramente un essere vuoto un essere che concettualmente sarebbe vuoto perché a questo punto l'essere sarebbe identico con il pensiero sarebbe concettuale infatti fonda invece il pensiero e per questo è attualità attualità e virtualità di potersi realizzare in tutti gli atti concreti degli enti che sono i suoi termini e anche nei confronti di questa realizzazione dice Rosmini l'essere è attualità non è in potenza nei confronti delle sue realizzazioni quindi l'attualità originale di Rosmini contro l'aristotelismo non è l'ente l'ente non è l'attualità originale l'essere e Rosmini dice qui c'è una chiara differenza che introduce Sant'Omaso nei confronti di Aristotele e Rosmini dice ora questa virtualità assoluta è atto e non potenza e appartiene a quello stesso atto che costituisce l'essere assoluto medesimo e quindi quella attualità questa assolutezza che sta allo stesso livello con l'essere iniziale con l'essenza dell'essere e che quindi costituisce anche l'essere assoluto medesimo anche nell'essere assoluto medesimo abbiamo un termine abbiamo a che fare con un termine dell'essere ma in quanto termine dell'essere è termine assoluto non finito come la realtà finita e qui in questo sta per Rosmini la definitiva differenza ontologica virtualità e il modo di partecipazione dice Rosmini e qui adesso abbiamo la parola partecipazione dell'ente finito all'essere nella forma oggettiva e morale quindi nella forma oggettiva poi Rosmini aggiunge anche morale perché parla delle tre forme dell'essere concentriamoci adesso sulla forma oggettiva questa forma oggettiva contiene potenzialmente dice Rosmini tutte le realizzazioni ma non è in potenza le contiene potenzialmente senza essere in potenza alla sua realizzazione perché è attualità originale in questo senso l'ente finito partecipa all'essere non perché ci sarebbe una sostanza di atto dell'essere che poi diventerebbe anche una parte di questo atto poi delle concretizzazioni non abbiamo una partecipazione in questo senso ma una partecipazione nel senso che l'essere originale in quanto essenza termina in questi enti che però sono fondati su una loro attualità tutta propria e Rosmini dice 931 e per vero essendo queste due forme la oggettiva e la morale in sé considerate infinite conviene che siano partecipate nella loro essenza di infinità quindi qualora sono partecipate non sono partecipate come finite come una sostanza che viene messa in contenitore direbbero gli analitici aristotelici no nella loro essenza di infinità ma poiché questa non può essere partecipata con l'atto della loro sussistenza perciò sono partecipate virtualmente quindi non può essere partecipata con l'atto della loro sussistenza non è che la sussistenza sarebbe una diretta realizzazione dell'attualità dell'essere la sussistenza sta nella forma reale dell'essere non nella forma ideale dell'essere perciò sono partecipate non realmente ma virtualmente ecco perché la parola virtualmente la virtualità dunque è l'unica limitazione possibile che ricever possano quelle due forme quindi la virtualità è il principio della limitazione e la ricevono non assolutamente ma relativamente al subietto finito che le partecipa cioè gli enti concreti ricevono la limitazione in che cosa consiste questa limitazione questa limitazione Rosmini è innanzitutto una determinazione dell'ente concreto finito la ricevono questa virtualità non assolutamente ma relativamente al subietto finito che le partecipa e la loro virtualità nasce appunto dalla loro natura della partecipazione quindi la partecipazione è relativa all'ente finito che lo partecipa non in maniera assoluta anche questo è un ulteriore argomento per cui la dimensione assoluta dell'essere dell'essenza dell'essere non si identifica direttamente con gli enti concreti contingenti perciò si dice che ciascuna di quelle forme è partecipata tutta ma non totalmente dopo queste considerazioni che abbiamo adesso preso da un po' da tutte le parti della teosofia vorrei dare adesso per chiudere le considerazioni sul rapporto tra la forma reale e la forma ideale dell'essere con l'analisi di un paio dei luoghi del terzo libro sull'essere trino nel terzo libro sull'essere trino prima di parlare del capitolo molto interessante delle relazioni delle quali parliamo in una delle prossime lezioni Osmini innanzitutto considera il rapporto tra le tre forme dell'essere ossia l'essere considerato dal punto di vista possiamo dire a partire dalla forma reale l'essere considerato nella sua pienezza quindi nelle sue tre forme a partire dalla forma reale e l'essere considerato nella sua pienezza quindi nelle sue tre forme a partire dalla forma morale e qui diventa abbastanza interessante e Rosmini approfondisce ulteriormente quale è questo rapporto tra essere ideale e essere reale ideale e reale che non che non distruggono la unità dell'essenza dell'essere ma invece sono questa relazionalità all'interno dell'essere che poi si dispiega nella relazionalità del pensiero pensiero pensante pensiero pensato nella dinamica attraverso la dinamica del pensiero senza e saurire tutto l'essere nel pensiero e Rosmini dice quando parla della congiunzione delle tre forme categoriche nell'ente finito in 732 come l'ente finito cito poter essere costituito da Dio come subietto mediante una sola delle tre forme quindi l'ente finito è costituito come? è costituito mediante l'essenza dell'essere no? è costituito mediante soltanto della forma reale dell'essere questo è molto interessante e coincide con quello che abbiamo già detto prima che l'atto dell'ente finito non coincide con l'actus essendi anche se non è neanche separabile da questo ma è un termine dell'actus essendi quindi poteva essere costituito come subietto mediante una sola delle tre forme cioè quella della realtà questa forma dunque divisa dall'essere questa forma divisa dall'essere nel senso dall'essenza dell'essere non potendo esistere in sé senza questo distinto ma senza poter essere concepito da sola poiché niente è se non c'è l'essere conveniva conveniva che le si unisse l'essere non identificandosi ma per una compresenza ecco di nuovo questa parola di presenza compresenza di maniera che l'essere e la realità concorressero a formare l'ente finito ma non ci fossero immedesimati ma in una perfetta compresenza sulla sulla base di ciò che abbiamo detto prima queste frasi sono già di per sé molto comprensibili ma vorrei comunque concentrare l'attenzione ancora su questo fatto che l'ente finito è costituito mediante una sola forma dell'essere l'ente finito non è la sintesi tra esseri reale morale l'ente finito la forma subiettiva è la mera realtà e in questa realtà sta la originalità e la autenticità della molteplicità degli enti perché se fosse già insieme con la idealità allora la pluralità della realtà sarebbe già sempre e soltanto nella sua se vogliamo così nel suo superamento per parlare con una parola hegeliana nell'essenza dell'essere l'ente concreto non acquisisce la sua dignità di soggetto la sua originalità nella molteplicità degli enti in quanto è superata nella dimensione assoluta dell'essenza dell'essere in questo senso non è direttamente l'actus essendi che dà la ragione della molteplicità in quanto tale non è l'actus essendi in quanto si realizza in tutti gli enti concreti che dà la ragione della molteplicità in questo ragione l'analisi dell'ontologia del tomismo analitico perché in questo senso avendo lo stesso elemento in tutti gli enti concreti non si correbbe soltanto il rischio del panteismo ma si svaluterebbe anche la originalità della molteplicità ma Rosmini non è questo il punto in Rosmini esiste un modo come avremmo modo di vedere relativo e assoluto di concepire gli enti concreti concepisco gli enti concreti in modo relativo quando li colloca all'interno dell'essere reale e li considero in relazione gli uni agli altri lì non concepisco una molteplicità autentica ma in quanto vedo ogni singolo ente reale come termine della dimensione assoluta dell'essenza dell'essere l'essenza dell'essere termina in maniera sempre di nuovo originale in ogni ente concreto questo è l'atto creativo questo è l'atto originale del fondamento assoluto di ogni atto singolare perché un ente è un atto ogni atto ogni ente ha la sua assolutezza in quanto termine dell'essenza dell'essere questo significa questo significa in altre parole che penso come dice Rosmini ogni ente concreto in maniera assoluta ogni atto ogni ente è attualità realizzazione attualità e può essere considerato in maniera assoluta in questa chiave Rosmini dà ragione a una dimensione della speculazione parmine deiana e va contro Hegel e va contro Hegel perché in Hegel abbiamo soltanto all'interno degli enti concreti le relazioni relative tra tutti gli enti concreti realizzazione della razionalità e quindi determinazioni concettuali attraverso la negazione come si sa in questa maniera però la molteplicità è salvata ma è salvata soltanto in quanto superata nell'assoluto Rosmini salva la molteplicità Rosmini salva anzi di più la singolarità in quanto ogni atto ente singolare è termine della dimensione assoluta dell'essere abbiamo in questo senso da parte di Rosmini la critica all'idea che nelle relazioni relative le cose potrebbero diventare anche in un certo senso nella loro attualità svilupparsi un atto dice Rosmini non è qualcosa che in quanto tale diventa che in quanto tale dal nulla potrebbe diventare qualcosa e critica fortemente il detto aristotelico l'assioma aristotelico in actus 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 nondum est actus in quanto tale in actu actus nondum est actus il quale viene a significare dice Rosmini l'atto che sta in sul formarsi non è ancora atto questo principio presuppone dice Rosmini che l'atto possa trovarsi in un istante nel quale si comincia a formarsi ma non è tutto fatto ancora il che non può avere luogo se non per quella specie di atti che si vanno formando per una serie successiva di istanti o in generale la cui formazione è successiva suppone che l'atto non sia atto se non quando ha terminato il suo conato di essere la sua azione ma questa maniera di esprimersi può significare due cose perché quando l'atto ha ultimato il suo movimento di formazione allora l'una delle due non c'è più l'atto ma soltanto è stato se l'atto è tra sé unito o se rimane qualche cosa la cosa che rimane sarà un atto permanente e allora è un altro atto non più l'atto della formazione che è un actus in actu l'assioma risotelico dunque siamo in 1263 in actu actus non dum est actus non è un principio ontologico che esprima un qualche proprietà comune a tutti gli enti ma elli non vale se non per quelli atti transe unti che hanno una continuità fenomenale e che infatto sono una serie di atti minori rosmini risolve in altre parole gli atti transeunti in una serie di atti minori noi abbiamo già dimostrato che il concetto di un atto solo che si vada formando per mezzo di una mutazione continua è uno di quei concetti volgari che condono un assurdo e rosmini si vede proprio in questo assioma aristotelico una per lui non strana evidentemente coincidenza con il concetto hegeliano del divenire come lo troviamo nel libro sulla dialettica il quinto libro sulla dialettica il quinto libro della teosofia dove rosmini critica esplicitamente la idea del divenire ossia che l'essere in quanto tale ossia qualsiasi atto che è una realizzazione dell'essere potrebbe essere in un certo momento e in un certo momento non più potrebbe in quanto tale in quanto essenza dell'essere mutarsi e rosmini risolve però comunque il problema della molteplicità e del divenire come abbiamo visto con la distinzione con la distinzione conseguente delle due forme dell'essere l'essere stesso evidentemente non muta è l'attualità originale ma in quanto tale termina negli enti reali termina negli enti reali dove possiamo avere anche una successione di atti una successione di atti minori dice Rosmini anche una mutuazione continua che non di meno è soltanto superficiale che non dichiara quindi ciò che vediamo nella molteplicità e nella mutazione soltanto come un apparire superficiale come in un certo senso come non essere in maniera parmideniana perché anche questo è essere questo è essere reale siamo fuori dall'essenza dell'essere come abbiamo visto prima ma non siamo fuori dall'essere abbiamo la mutuazione all'interno della dimensione soggettiva dell'essere all'interno della dimensione reale dell'essere e a questa dimensione reale dell'essere l'essenza come luce dell'essere come dimensione assoluta dell'essere è sempre compresente e Rosmini prosegue dove abbiamo cominciato prima ci riguardiamo in 732 adesso in 733 dicendo non potendo dunque l'essere essere identico con la realtà nell'ente finito quindi non è identico se fosse identico avremmo il problema sia esoterico che è hegeliano il problema esoterico in actu actus non dum est actus il problema è hegeliano del divenire ma non può essere identico Rosmini quindi con la distinzione tra forma ideale e forma reale dell'essere risolve queste antinomie metafisiche quindi non potendo essere identico ma potendo solo esserle presente e da cercare come possa essere questa presenza dell'essere che costituisce quella congiunzione che è possibile tra la realità divisa e l'essere ora la presenza non è altro che di nuovo la manifestazione non a caso quando Cornelio Fabro ha scritto l'enigma Rosmini argomentando non soltanto per la piena legittimità della condanna del 1888 ma rafforzando addirittura le accuse nei confronti di Rosmini e soprattutto di aver tradito il pensiero del doctor Angelicus era uno degli argomenti centrali di non aver rispettato la dottrina della partecipazione e di parlare invece della manifestazione come abbiamo appena letto in cui Fabro vede una chiara istanza di idealismo completamente misconoscendo che proprio in questo modo Rosmini ha profondamente capito Sant'Omaso anzi meglio di Fabro che nella riduzione di Tommaso ha una pura distinzione di elementi aristotelici da un lato ed elementi platonici dall'altro lato che in Sant'Omaso avrebbero fatto una nuova sintesi ha fatto in un certo senso Sant'Omaso un eclectico ma non un pensatore veramente originale chi ha scoperto Sant'Omaso come pensatore originale era Rosmini e certamente non Fabro e prosegue Rosmini e finiamo con questa citazione di cui si vede che la presenza dell'essere suppone il pensiero nella realtà perché dove il pensiero è manifesto il pensiero non è manifesto nella realtà perché nell'essere ideale ma l'essere ideale è la intuizione dell'idea dell'essere è manifesto nella mente nella conoscenza quindi questa sintesi suppone il pensiero nella realtà suppone il fatto che l'essere in quanto tale è sempre essere pensato suppone il fatto di questa relazione originale che abbiamo tematizzato sin dall'inizio ossia della manifestatività dell'essere al pensiero del fatto che nella ontologia non possiamo prescindere né dalla dimensione reale dell'essere ma neanche dal fatto che l'essere in quanto tale non diventa non può non deve diventare meramente annoetico ma che ha le sue dimensioni anche dianoetiche in questo senso ringrazio anche questa volta per l'attenzione e dico alla prossima volta dove approfondiremo altri nuovi e innovativi aspetti di questa teosofia nell'interpretazione originale dell'Actus Exendi di Santo Maso e ringrazio molto per l'attenzione per l'attenzione e ringrazio